come si scava quali sono gli strumenti principali beh allora lo strumento principe la cosiddetta trawl è una cazzuola di fabbricazione inglese ci sono anche le versioni americane che ha la caratteristica di essere molto resistente fusa è un pezzo unico e quindi questo è proprio il nostro come per i geologi c'è la martellina per gli archeologi c'è la trawl che ha la possibilità appunto di fare una forza sul terreno e poter pulire poi si scava a gambero vedete appunto che gli archeologi stanno procedendo all'indietro proprio perché bisogna sempre mantenersi il più possibile lo spazio frontale pulito e retrocedere questa è la tipica modalità di scavo di scavo stratigrafico è uno scavo impegnativo perché come vedete è uno scavo che adesso viene condotto a mano la cotica erbosa ovviamente è stata portata via con un mezzo ma adesso lo scavo viene viene condotto a mano adesso vedremo come rimuovere il crollo perché una volta definito però insomma c'è una grande attenzione vediamo appunto anche che l'archeologo in questo caso sta iniziando le operazioni di rilievo di questa parte di crollo lo scavo ci tengo a dirlo è una attività distruttiva quando si scava si depaupera per sempre il potenziale stratigrafico per cui tutte le attività di scavo devono essere svolte con la massima precisione e con una documentazione impeccabile documentazione fotografica documentazione grafica che va fatta sia dagli archeologi che sono sul cantiere sia dai topografi quando poi c'è appunto da mettere in pianta strutture e elementi più vasti e schede diario di scavo sono tutti elementi che ci devono permettere poi a scavo finito di poter ricostruire la stratigrafia che è stata tolta di poter ricostruire anche il pensiero che l'archeologo ha avuto e che lo ha condotto nella sua ricerca scientifica per fare in modo che appunto sia comunque verificabile sia comunque possibile ritornare poi adesso la tecnologia ci dà anche delle possibilità che un tempo non c'erano stiamo per montare appunto è già pronto il palo adesso a giorni arriverà una gopro una piccola telecamera che ci permetterà proprio di fare un time lapse di avere minuto per minuto la successione della ricerca queste ovviamente come ad esempio il volo del drone che è stato preventivata adesso appena sarà pulita tutta quest'area il drone farà un volo e servirà sia per immagini così da tenere in archivio immagini anche suggestive dall'alto ma anche proprio per documentare tecnicamente lo sviluppo areale di questo scavo quando ho iniziato a scavare io che sono già piuttosto vecchiotto tutto questo non c'era quindi ovviamente la tecnologia ci sta aiutando molto e ci sta aiutando anche su un'altra chiave su quella della divulgazione perché lo scavo appunto l'ho detto è un'attività conoscitiva è un'operazione culturale ma deve essere anche un momento in cui comunque si riesce a dare ai cittadini e alla cittadinanza quelle informazioni sulla sullo sviluppo del proprio territorio sull'organizzazione su una con una visione il più possibile di acronica perché io sono un medievista però sono molto abituato a spaziare nella nella ricerca che deve andare oltre le proprie specifiche competenze e e quindi queste tecnologie sicuramente ci danno una mano a poter anche raccontare in modo più diretto in modo più coinvolgente convincente le cose che facciamo che non sono solo per addetti ai lavori